Il turismo religioso come volano di sviluppo, Rossano Città del Codex, con i suoi tesori artistici e storici, è stata inserita nel prestigioso circuito di Aurea, la Borsa Internazionale del Turismo Religioso e delle Aree Protette, che si terrà a Paola dal 2 al 4 ottobre. Il tutto grazie alla sinergia tra la Proloco, la Regione Calabria, l'amministrazione comunale e l'Arcidiocesi Rossano Cariati. Fare rete, valorizzare le risorse esistenti e promuovere i tesori religiosi. Questi i principali obiettivi dell'evento, i cui dettagli sono stati illustrati nel corso dell'Infoday tenutosi nella città bizantina. Il 3 ottobre, inoltre, proprio Rossano sarà la tappa di un Educational Tour, che porterà in città circa 60 buyer provenienti da tutto il mondo. Rossano offre un patrimonio importante con i suoi monumenti, con le sue chiese, con le sue unicità rappresentate dal Codice Purpureo, quindi penso che la nostra città possa essere protagonista in questo segmento del turismo, il turismo religioso, che è un turismo che fa grandi numeri, è un turismo che può portare notevoli introiti e risvolti economici, ma soprattutto può destagionalizzare l'offerta, quello che ci siamo detti da un po' di tempo, ossia non concentrare il turismo nei mesi estivi di luglio e di agosto. Mettersi quindi in rete è un veicolo e uno strumento anche perché questa città possa avere un ruolo nazionale e internazionale. Attraverso quali strumenti? Allora, innanzitutto stiamo parlando da relativamente poco noi di turismo religioso. Stiamo focalizzando l'attenzione anche grazie al consigliere Antonelli, che ha fatto delle proposte a riguardo, come lo studio nelle scuole del Codice Purpureo. Io penso che un primo passo debba essere quella dell'identificazione della città di Rossano con il Codice Purpureo, però debba essere una identificazione totale, ossia Rossano debba essere riconosciuta come città del Codex. Questo potrebbe essere un'operazione di marketing importante. Ecco perché l'amministrazione Antonotti e io in prima persona ci stiamo muovendo in questo senso, fa riconoscere Rossano come città del Codex. e posso dirti che in questo senso ci sono diversi progetti, alcuni in itinere, altri che sono in fase di ultimazione, così come per esempio la rotatoria del frasso posta all'ingresso della città, una rotatoria importante, dove verrà collocata un'opera d'arte che ricorda il Codice. Che cosa sta a significare? Che chi mette piede a Rossano verrà accolto subito dalla scritta Rossano città del Codex. E poi tante altre iniziative, così come a breve istituiremo un bando per riprendere i murales nel centro storico, però a differenza degli anni passati, non a tema libera, ma dei murales che riproducono fedelmente le pagine del Codice. Ecco perché dico che il Codice deve diventare la nostra passione, la nostra fisazione, un po' come il tifoso di calcio che ha per la propria squadra.